Salve a tutti ragazzi, dopo Roberto Saviano parliamo di Favij, direi che non fa una piega, cosa ne dite? L'ultimo video di Favij sul nuovo videogame Nintendo Super Mario Odyssey mi è molto interessato, mi ha molto colpito e mi ha fatto venire quel sentimento che i giovani d'oggi chiamano il cringe, il brividino di imbarazzo latte alle ginocchia mi fa senso ma non posso smettere di guardarlo, più o meno è la sensazione che ho provato. Premessa, Favij è un imprenditore molto importante che ha tutto il diritto di curare la sua attività imprenditoriale come meglio crede entro i termini di legge e senza ledere la libertà degli altri, quindi finché rispetta queste cose a me va benissimo e se ha successo e se guadagna bene e se il pubblico lo premia in una realtà devo dire abbastanza democratica come quella di YouTube, buon per lui. Io non ho nessun problema da questo punto di vista, come persona che cerca di avere un approccio critico sulla piattaforma YouTube, sono tenuto, con il mio account con cui seguo centinaia di canali, sono tenuto ad avere anche Favij fra i canali che seguo, anche se non vi invito a seguire Favij, non chiedo tanto, ci penso io, non temete, perché è una figura rilevante, è lo YouTuber numero uno in Italia da un punto di vista dei numeri e quindi io sono tenuto a sapere che cosa combina e se esce un video sul nuovo videogame Nintendo, un video in anteprima, io so già che una marchetta prima di cliccare sulla thumbnail è assolutamente ovvio, mi interessa, mi interessa anche perché essendo io cresciuto con i giochi Nintendo e interessandomi il mondo dei videogame, altrettanto sono interessato a vedere come Nintendo investe in marketing, qual è la strategia che decide di usare e sono proprio curioso di vedere come se la sono giocata questa marchetta. C'è da fare una premessa, prima di tutto, una premessa alla premessa, non c'è niente di male se uno YouTuber fa marchette, fa product placement, nulla di male, ripeto è un'attività imprenditoriale che deve curare come vuole, il pubblico lo premia o lo punisce in modo devo dire abbastanza democratico su YouTube, quindi ognuno se la gioca come crede, questo assolutamente. Premessa sulle marchette però, le marchette possono essere sostanzialmente, marchette pubblicità, possono essere sostanzialmente di due tipi, la marchetta sospensione dell'incredulità, per cui facciamo finta che questo sia un normalissimo video di Favij, lo sappiamo che è una marchetta, ma facciamo finta di no, io sto zitto. E questo è un video di Favij, però vi faccio vedere Super Mario Odyssey che esce domani, guardate com'è bello. Se sei bravo, se reciti bene, mi puoi anche portare nella casa del mulino bianco e io sospendo l'incredulità, come vado al cinema e tra virgolette credo che Thor spari i fulmini, lo so che è una boiata, però sto con te se non mi tradisci e non mi fai venire brividini, rimango con te fino alla fine del film e posso rimanere con te tranquillamente anche all'interno di una pubblicità, sapendo che lo stai facendo per vendermi un prodotto, puoi comunque intrattenermi e tenermi lì, nessun problema. Oppure c'è il tipo di marchetta che scavalca questo problema, ti metto il mio set di pentole sul tavolo, ti sto vendendo delle pentole, lo sai, io sono il venditore di pentole e riesco in questo modo a recuperare una spontaneità che ho fatto uscire dalla porta dicendoti che è una marchetta. Adesso che sai che ti sto vendendo le pentole, paradossalmente posso essere molto più spontaneo, sboccato, se vuoi comico, quello che ti pare, visto che è caduta la maschera, si fa per dire. In realtà la maschera è sempre bene evidente, dipende come vogliamo giocarcela. Favij chiaramente cerca di fare, e intendo di fare una cosa del primo tipo, il problema è che per fare una pubblicità che mi vuole far sospendere l'incredulità, scusatemi, devi saperla fare, devi farla bene. E questo video di Favij al quale riconosco una certa spontaneità nei suoi video normali, un successo del genere non l'ottieni se non sai comunicare un certo tipo di spontaneità. Obiezione, è una spontaneità vera o a volte è una spontaneità recitata? Non ha nessuna importanza, l'importante è che sia una spontaneità percepita da parte del pubblico evidentemente. Per i canoni di Favij questo video è imbarazzante. Non voglio dirvi andate a vedere il video di Favij, non vi chiedo tanto ma vi descrivo la scena che mi ha ucciso, letteralmente mi ha fatto venire il latte alle ginocchia. A un certo punto è evidente che Favij sta per elogiare la velocità di caricamento del videogioco Super Mario Odyssey, non so se questo faccia parte del contratto o sia una sua idea, non ne ho la più palida idea. Quindi fa partire il caricamento del gioco. È palese ma prima ancora che lo faccia è chiaro che farà la gag o quanto è veloce a caricare per sottolineare la qualità della programmazione e della fruibilità del gioco. Il problema è che le frasi che lui ha deciso di pronunciare sopra il caricamento del gioco risultano troppo brevi rispetto al caricamento stesso che non è particolarmente breve a dire la verità. Non è né lungo né breve, è un caricamento normalissimo, assolutamente accettabile, però non è un caricamento che ti fa dire oh mio dio com'è stato veloce. Lui dilata il tempo di quello che ci vuole dire sopra, i tempi saltano completamente, il caricamento finisce, lui ha perso l'attimo e a un certo punto così dal nulla, qualche secondo dopo, frazione di secondo ma totalmente fuori tempo, fa finta di fare oh quanto è stato rapido il caricamento, cazzo si è caricato in fretta, adesso non ricordo la frase che dice, che risulta di un posticcio che anche un bambino di 15 anni secondo me rabbrividisce, mamma mia, cioè hai fatto proprio finta e si è visto, volevi fare la gag del caricamento, io che sto vedendo il video non ho visto un caricamento così veloce da farci una gag sopra, ma l'hai recitata talmente male che si è visto che dovevi farlo, non volevi farlo, dovevi farla la gag del caricamento, o perché l'avevi deciso di farlo tu o perché stavi in un contratto di sponsorizzazione, chi lo sa non mi interessa, è stata realizzata malissimo, ma questo non è un problema tanto per Favij, questo per lui è un video su centinaia, cosa gliene frega, questo è un problema per Nintendo, questa spontaneità lede la percezione del gioco, la lede anche perché poi tutto il gameplay di Favij su questo gioco Super Mario Odyssey è forzato nel sembrare divertito e così sembra annoiato, sembra a disagio, preferivo la marchetta sfacciata, vi faccio la marchetta di Super Mario Odyssey, avrei preferito una cosa ironica, ridiamo insieme del fatto che vi faccio una marchetta di Super Mario Odyssey, sarebbe stato perfetto, ma così devo fare finta di starmi divertendo, il divertimento sembra finto e l'effetto è totalmente controproducente, Super Mario Odyssey è con ogni probabilità un capolavoro, ora io viziato da Steam, abituato a comprare i giochi su intorno ai 10, 2 euro a volte, pensare di spendere 500 euro per giocare a Odyssey e Breath of the Wild ancora non ci sono arrivato, però sono un intendaro di lungo corso e ci metto la mano sul fuoco che questo Super Mario Odyssey sia un grandissimo videogame, e sono sicuro che a Favij questo gioco piaccia davvero, perché probabilmente è un grande videogame, nessun problema in tutto questo, ma questo video mi dà la sensazione di un divertimento forzato che mi inizia a far venire dei dubbi, io alla fine di questo video, che ho guardato con un po' di fatica, vi dico la verità, e l'ho guardato perché volevo farci un video sopra, alla fine di questo video ho iniziato sinceramente a nutrire dei dubbi sul more of the same di questa formula del Mario 3D e sul fatto che forse abbia iniziato a rompere le palle, quando se leggi le recensioni in giro, quali siano sincere e quali prezzolate, poi non è mai facile capirlo, hai proprio la testimonianza che sia vero il contrario, poi è il tempo che ci dirà se questo gioco è davvero valido, e soprattutto sarà giocarlo eventualmente. Comunque, una pubblicità davvero mal riuscita, e mi metto nei panni di Nintendo, investimento sicuro, Favij i videogiochi, il pubblico è quello, voglio dire, è quasi un automatismo, ma guardaci a che video viene fuori, perché questo video è davvero pessimo, è forzato, non dà una sensazione di divertimento, ma dà la sensazione di una persona a disagio, costretta a divertirsi, mio Dio. E a proposito del discorso trasparenza, è interessantissimo, a proposito del cringe, e qua siamo a un capolavoro, è interessantissimo quello che Favij scrive nella descrizione del video, è qualcosa di pazzesco. Ringrazio Nintendo per questa splendida attività. Aggiungo inoltre che, attività o meno, nella più completa sincerità, mi sento di dire che Odyssey è il gioco più bello sul quale ho messo mano negli ultimi anni, senza ombra di dubbio. Quello che mi interessa di questa descrizione è che sembra scritta, sapete quando si diceva il politichese, la lingua che parlano i politici, questa sembra scritta in avvocatese, non so se sia così davvero, se ci sia qualche senso in termini legali per l'utilizzo di certi termini. Quello che mi interessa di quello che scrive qua Favij è che probabilmente è vero che è il miglior gioco su cui ha messo le mani negli ultimi anni, io sono anche disposto a crederli, e guardate, io tendo a credere che questo Super Mario Odyssey sia un grandissimo gioco. ma la parola attività, ringrazio Nintendo per questa splendida attività. Che cosa vuol dire? Io casco dal pero, sarò ignorante io, attività. Aggiungo inoltre che, attività o meno, cosa stai cercando di dirmi? Consideriamo il pubblico, il quindicenne che gioco forza con meno strumenti del trentenne, attività è un termine che vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Io penso, ma lo penserà chi lo legge, e forse l'idea non è proprio quella di passare così, inosservati, tra virgolette. Io penso che attività sia un termine forse davvero in avvocatese per significare l'attività economica, cioè è una cosa inattivo per me, cioè mi stai pagando. Ma dirlo così, ringrazio Nintendo per questa splendida attività. Cosa stai cercando di non dire con questa frase? Stai veramente cercando di farci credere, o di far credere a un lettore molto ingenuo che questa non fosse una pubblicità? E poi attività o meno, aggiungo inoltre che attività o meno è uno dei migliori giochi. L'uso di un termine così ambiguo, buono per tutte le stagioni, che probabilmente da un punto di vista legale forse vale come sponsorizzazione, è imbarazzante. Trovo che questa sia la parte davvero imbarazzante di questo prodotto di marketing, di questo prodotto pubblicitario. Questa splendida attività. Anche andare al supermercato a comprare le mele è un'attività. Questa è il tentativo disperato di non dire, dovendolo dire, sto facendo una pubblicità. Quando basta guardare dieci secondi di video e, ripeto, brividino. Madonna. Quindi, ripeto, a Favij non gliene importa una sega di questa cosa. Anche se poi, leggendo lo scroll dei commenti, ti viene il dubbio che siano stati ripuliti. Io questo non lo so, quindi è soltanto un'ipotesi. Però nessuno che allude a questa cosa qui. Ora uno dirà, ma il pubblico di Favij, ragazzi, si capisce. Lo capisce anche a quindici anni che questa è una marchetta venuta molto male. E sono tutti battutini sul fatto che si è fatto crescere dei baffetti abbastanza discutibili, eccetera. Non lo so, comunque è sempre interessante. Bisogna stare su quello che succede in giro, perché bisogna capire come funziona la comunicazione e, soprattutto, bisogna non avere spocchia. Ora, io sono sicuro che molti di quelli che seguono questo canale rabbrividiscano il pensiero di Favij e pensino, ma a me, Favij, ma che cazzo me ne frega, ma alla gente che segue Favij, ma che schifo. La gente che segue Favij sono dei ragazzi, come lo siamo stati noi alla loro età e non dobbiamo sentirci superiori, men che meno, a un imprenditore che fa, credo, i milioni come Favij, ma men che meno anche al suo pubblico. Nel senso che è un pubblico di persone tali e quali a noi. È molto importante quello che li nutre, perché sono gli adulti di domani, i giovani di oggi, ovviamente. Quindi è davvero importantissimo analizzare la comunicazione e il marketing che si rivolge ai giovani. In questo caso, quando fallisce così miseramente, poi, da amante dei videogame Nintendo, devo dire, insomma, cara Nintendo, dacci un'occhiata a sti video che fai pubblicare, ma faglielo rifare sto video, cambia la formula. Non è proprio riuscito alla grandissima. Va bene ragazzi, ho finito la mia invettiva su Favij, vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Bye bye! Ciao!